Oggi sicuramente dobbiamo fare qualcosa di chill, dovevo... cioè volevo fare una casettina. Dovrei sistemare un attimo la mia farm di piglin, però devo guardarmi qualche video perché io non ho veramente idea di come farla meglio. Quindi farei giusto un'altra casettina molto tranquilla. Ora bisogna solo capire dove in realtà. La villa se non sbaglio l'avevamo praticamente finita, la scorsa volta andrebbe decorata, ma non voglio fare un altro episodio con la villa che c'è veramente, ci ho fatto troppi video. Poi ragazzi il lunedì al posto di Pokémon mi sa che uscirà una nuova serie di Minecraft con altri ragazzi. E Pokémon mi dovete dare un attimino per farlo uscire perché lo voglio fare uscire con un unico video. Comunque andiamo un attimino sopra a vedere dove potremo andare a costruire la nostra prossima casettina. Allora, all'altra volta abbiamo costruito quella cosa lì, che sembra ok. Poi abbiamo fatto l'altra casa davanti. Dove la potremo costruire? Allora, o ne facciamo una tipo lì, questa zona qua, che però... cioè che è vuota, che secondo me potrebbe anche andare. Altrimenti, vediamo un po', abbiamo fatto la casa del pescatore, mmm, vediamo un attimo. Mi piacerebbe... oh mamma, ho preso un sacco di danno, matti. Mi piacerebbe anche continuare questo villaggio, solo che, mmm, non lo so, mi sa che lo abbatterò. O comunque lo devo fare in modo diverso perché non mi sta piacendo come sta venendo. Cioè è vero, ho una, due, tre casette che sono letteralmente sparse. E poi c'è quella che è a Mastodontica che non c'entra niente, non lo so, non mi stava molto piacendo. Allora, o qui c'è lo spiazzo, oppure, 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 potremmo provare ad andare in questa direzione, verso il museo. Tipo dove abbiamo l'Avex Farm di pecore. Potremmo fare una casettina qui, una bella casettona qua. Però devo trovare come farla anche. Qualcuno ha qualche idee con quel tipo di tetto più che altro? Qui potrebbe starci una nuova casettina, no? E ricopriamo questa, tanto qua mi sa che è tipo stra pieno di lana. Che andrebbe spostata. Potremmo, sì, fare una casa qua. Magari una casa circolare, potrebbe starci una casetta circolare. Effettivamente non ho mai fatto una casa circolare. Potrebbe andare anche bene, in realtà. Proviamo a fare una casa circolare. Adesso mi guardo qualche, qualche tipo di casa su Google. E proviamo a farla. La riportiamo su Minecraft. Allora, dai qua copriamo un attimino così, che tanto... No, anzi, dai. Copriamo tutto per bene, che poi... Quando scavo sotto mi ritrovo sotto il bucone e faccio... Mmm... Suiz. Tiriamo giù qua un attimo. Poi, ovviamente, andremo a rimodellare il terreno una volta finito tutto. Perché è giusto così. Non si intacca la natura senza poi rimetterla a posto. Ok, dai, questo spazio ci basta. Capiamo un attimo come la vogliamo fare, questa casa. Una cosa è certa, voglio delle scalette che vanno su. Delle scalette che potremmo fare qui. Che poi continuano così. Un po'... Un po' storte, però, dai. Secondo me così ci può stare. Poi arrivano qua, magari le facciamo tipo un attimino tonda la cosa. Aspetta, qua deve essere così. E... Ok. Poi facciamo doppio. E qua, buon, perfetto. E questa qua deve essere tipo la zona scala. E poi, qui dobbiamo fare una specie di entrata. Entrata che però, dobbiamo un attimo capire. Perché la casa effettiva la vogliamo fare qua, con questo qua al centro. Quindi, tre, quattro, quattro. Ok, ora devo tirare fuori un cerchio. Cerchio che io non sono veramente mai stato capace di fare su Minecraft, però. Ci voglio provare senza l'aiuto del sito incredibile. Tipo così potrebbe essere già un cerchio, senza questo. Voilà. Ok, in realtà così grande penso possa bastare. Ok, allora, mi sa che la scala la dobbiamo modificare un attimino. Forse era meglio direttamente partire da appunto il centro, però vabbè. Intanto devo andare a prendermi un letto, perché... Si sta facendo notte. Quindi andiamo un attimo a casina. A parte che abbiamo il legno della giungla, in realtà. Abbiamo la lana qui, quindi possiamo farci anche... Oh, ho la lana rossa. Finalmente potrei farne un bel retto rosso, come piace a me. Anche se il letto che mi contraddistingue, per i più attenti, è il letto viola. Ok, allora abbiamo detto le scalette di qua. E poi voglio una vista davanti. Allora. Allora, io direi di farlo qua. Che fa così. Uno, due, tre. E questa qua mi si deve riconnettere alle scale. Quindi va un attimo studiata, però ci siamo, eh. Sendo che magari questa qui poi è il posto delle scale. Che poi girano qua. Magari partono qua e arrivano qua. Direi che potrebbe anche essere ok. Perché qua non ne ho idea, ragazzi, però. Qui anche dobbiamo fare la verandina. Però la verandina che in realtà vorrei chiudere tipo qua. Quindi così. Ok. E poi... Allora, è storta. Perché mi rendo conto che sia storta, eh. Però, però, secondo me... Ragazzi, dov'è il mio pezzo? Ragazzi, ok, si stava mangiando il mio pezzo di terra. Ma secondo me può venire, può venire. Qua dobbiamo tirare giù un altro po' di terra. Ma per il resto può venire, eh. Direi che la base l'abbiamo più o meno circoscritta. Ora, però, dovete scegliere in che materiale farla. Scegliete voi il materiale. Intanto io vado sopra a vedere la base dall'alto. Almeno la pianta. Scegliete pure. Abbiamo tutti i legni. A parte il Dark Oak. Perché è giusto. Però, sapete che... Sembra tipo una... Una forma strana. Cioè, tipo i cerchi nel grano, no? Un po', un po' ricorda. Un po' ricorda, secondo me. E vabbè, però, ragazzi, sono proprio stupido. Oh, grazie. Beh, secondo me è un po' ricorda. Un po' ricorda. Forse potremmo fare questa cosa qua davanti. Quindi fare questo cerchio. Questo mezzo cerchio. Ecco, magari se lo allargo un po' è meglio. Potremmo fare la casa di Mickey Mouse. Magari metto l'orecchio di là e viene fuori il topolino dall'alto. No, vabbè, non voglio fare Mickey Mouse, eh. Però, comunque... A parte questo che va un attimino fixato. Ma... What? Ma... What? Ma perché? Ma che ho fatto di male? Ma cosa? Ma che, stiamo scherzando? Ma com'è possibile? Boh. Però potremmo fare anche tipo un'altra entrata da questa parte. Cioè, secondo me... Potrebbe anche starci doppia entrata? Oddio. Sembra... Sembra... Sembra un... Un Pokémon. Eh... Vabbè, oddio, ormai ci siamo. Mettiamoci qua che tanto... No! Va bene. Va bene anche qua, dai. Vabbè. Comunque direi di tenerla così, dai. Quindi abbiamo questa doppia... Doppia scala, diciamo. E poi... Prova a fare tipo una casa... Rotonda più piani con la scala che sale su. Eh... Si può fare. Può fare. Ma tipo... Ho capito più o meno cosa intendi. Tipo torre di babele. C'è una roba del genere. Ci potrebbe stare, però la dovrei fare a dimensioni... Epocali. Cioè, così mi sembra un po'... Un po' piccola, però... Però... Possiamo comunque provarci. Una cosa è certa. Questa è la pianta centrale e da qua non ci muoviamo. Questa qua la dopo la tiriamo via tutta. Così lasciamo il passaggio che va su. Abbiamo scala, scala, arriviamo. E poi avrà il pilastro centrale con le scale a pioli per salire. E da questo lato, allora... Possiamo provare a fare delle scale che si collegano e vanno fino su in cima. Magari viene qualcosa di più simpatico. Allora, la scala comunque la farei partire da... Da... Da destra. Quindi lì. In quel punto lì. E poi inizia a girare. Dovrebbe bastare. E la farei alta tipo fino qua circa. Penso di sì. Tipo torre a sto punto. Quindi in alto facciamo... Dov'è il villaggio medievale? Una roba così ma con la punta. Vabbè, tipo campanile va verso l'alto. E come blocco non saprei. Consigliatemi, consigliatemi. Secondo me potremmo farla o in sandstone. Potrebbe starci. In... Anche in clay in realtà. Rialzi la casa sotto. Eh, la casa... Quella da cui avevo preso in realtà era rialzata. Però il magazzino effettivamente già ce l'ho. Quindi... C'è un magazzino vero e proprio non mi serve. Però vabbè, posso metterci sempre qualche cesta, eh. Però dai, andiamo a vedere un po' che colori abbiamo nel nostro magazzino. Oh, i blocchi di funghi li eviterei. La lana anche. Perché vorrei una texture compatta. Il cherry non mi ispira molto. Perché è rosa. Nonostante sia bellissimo. Inizialmente volevo farla di cherry, eh. Però se facciamo una torre... Non mi piace troppo. E... Prus e cobblestone. Ancora ancora. Però insomma... Vorrei farla tipo... Blocco unico con i dettagli fuori. Quindi... Forse la clay è quella che si avvicina di più. Voi che dite? Ragazzuoli. Quarza e legno. Di quarza e di legno dici. Considerando che di quarza ne ho tipo zero. Però vabbè, non importa. Lo... Lo farmiamo. Però proviamo con quarza e legno scuro, dai. Legno scuro cosa... Cosa intendi? Abete o dark oak? Perché di abete ne ho. Di dark oak sono un po' carente purtroppo. Però... Sono anche un po' carente di quarzo. Dopo la villa... L'ho veramente finito. Infatti devo farmi la farm. Finché non mi guardo un video su come aumentarla. Non posso farla. Però se intendi il... Il dark oak andiamo a cercarlo. Che intanto... Prima o poi lo devo trovare. Quindi... Prendo la... Una mappa della wooden e andiamo a cercarla. Legno di quarquad. Cos'è il... È il legno del... Del tipo di shrek? Il lord farquad. Bene. Questi dovrebbero bastarci. Andiamo verso l'infinito e oltre. Ora vediamo se ho effettivamente... Oddio, l'ho beccato il buco. Incredibile, eh. Sono diventato bravo. Questa cosa potrebbe essere anche fraintesa. Ma noi... Non ci faremo caso. Allora, allora, allora. Una mappetta, una mappetta. Dov'è la mia mappetta? Dovrei averle. Allora... Buried. No, no. Che... Che... Che schifo. Non penso di avere a questo punto una mappa. Quindi... Beh, andiamo a prenderla dai villager. Che dovrei averne almeno uno che fa la mappa del tesoro. Quello della wooden. Che non è del tesoro. Ma vabbè, avete capito. Almeno uno dovrebbe... Dovrei averlo. Ah, buonasera. Anche lei è qui con me. Allora, empty map. No, grazie. Dobbiamo ocean. No. Ocean. Beh, per favore, eh. Adesso non stiamo ad esagerare. Neanche uno con la woodland. Eccolo qua. Allora, 14 smeraldi. E una bussola. Nulla di più facile. Come si fa una bussola, ragazzi? E... Compass. In inglese non mi veniva. Eccolo qua. Ok. E ora dobbiamo solo recuperare degli emerald. Comunque, ragazzi. Se ogni tanto giocassi tipo delle bedwars o survival games, giochereste? Se è tipo quelle da quattro, così giochiamo insieme o... O non lo so, quelle... Anche singole. Facciamo le lobby. Tutti contro tutti. Allora, non so da che parte devo andare, ma nel dubbio vado di qua. In teoria devo andare a nord. Di qua. E... West. Quindi comunque di qua a nord-est. West e ovest, non est. Però vabbè. Sapete che inizio ad avere dei dubbi che sia di qua. Qualcuno di voi per caso sa leggere le mappe? Perché c'era quel pezzo di... Perché ci sono gli alberi di spruce? Vabbè. Ah. La Darkwood Forest. E pensare che era così vicina. Ma anche così nascosta. La Darkwood Forest.